Cosa? Buongiorno a tutti, sono Alfredo Ferrari e fin dall'anno 2007 sono la vostra guida qui a Chisinau, la capitale della Repubblica Moldova. Se venite in questo piccolo ma bel paese e venite per ragioni turistiche, venite per affari o venite per cure medico-dentali, vi aspetto per organizzare bellissime escursioni in tutto il territorio nazionale. Partiamo da una delle zone più belle, più centrali della nostra città capitale, la città di Chisinau, come potete vedere abbiamo la cattedrale e anche il campanile.